Ciao, sono Valentina e in questo video ti voglio parlare di quanto sia importante capire che cosa si intende con saturare la propria mente nell'ambito della manifestazione, in particolare quando vogliamo manifestare l'amore e te ne parlo in questo video. Una delle prime cose che ci è assolutamente richiesto di fare quando vogliamo manifestare in modo consapevole, quindi quando iniziamo a prendere confidenza con il processo di manifestazione, è quello di sviluppare la capacità di osservare i propri pensieri, quindi di essere consapevoli dei pensieri che stiamo facendo. Questo è estremamente importante, estremamente importante perché è necessario capire quali siano i nostri pensieri predominanti. Che cosa intendo dire? Se per esempio ci rendiamo conto che l'80% dei nostri pensieri, quindi i pensieri predominanti, sono tendenzialmente negativi, lamentosi, provengono da uno stato di mancanza, in particolare nell'ambito sentimentale, quindi magari stiamo cercando di manifestare una persona specifica o una nuova relazione. Diventa quindi estremamente importante capire rispetto per esempio a questo argomento, a questa area della nostra vita, quali siano i pensieri predominanti. Perché se appunto ci rendiamo conto che abbiamo l'80% dei pensieri che generiamo sono appunto pensieri negativi e un 20% invece sono quelli che ci sforziamo, possiamo dire, di avere che siano invece dei pensieri positivi, ecco in questo caso non ci dobbiamo granché sorprendere se la nostra realtà esterna non ci sta riflettendo ciò che noi desideriamo, quindi non si sta conformando con ciò che noi vogliamo. Perché i pensieri muovono poi delle emozioni che a loro volta sono mosse più o meno da delle credenze, dalle credenze che abbiamo sia consce che subconsce. Quindi puoi capire quanto sia importante ragionare sui nostri pensieri. Il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di invertire questi numeri, quindi di riuscire in modo naturale, proprio perché ci viene in modo automatico, perché ne siamo abituati, ad avere invece un 80% di pensieri costruttivi, di pensieri per noi, pensieri che ci fanno stare bene, pensieri che ci danno soddisfazione, pensieri che sono produttivi per la nostra crescita, il nostro sviluppo e per raggiungere i risultati che noi vogliamo. l'80% dovrebbe essere composto di questo e un 20% che, ahimè, ci può stare, di pensieri che invece possono nuovamente ritornare nelle dinamiche che avevamo precedentemente o che magari hai anche tu. Perché alla fine si tratta solo di pensieri. La nostra mente egoica fa un lavoro enorme nel far sì che i nostri pensieri siano, come possiamo dire, autoconservativi, quelli della mente egoica e quindi ci mettono continuamente allerta attraverso la paura, attraverso il, magari la poca fiducia, il rispetto magari a delle cose che ci sono accadute in passato. Quindi la mente egoica, pur di non farci soffrire, tende, no, ad allarmarci. Fa anche moltissime altre cose, ovviamente, ma in questa direzione ha, come dire, dei movimenti un po' maldestri che, ahimè, sono, vorrebbero essere forse a nostro favore, ma in realtà sono estremamente limitanti per noi. Quindi diventa estremamente importante osservare, capire quali sono i nostri pensieri predominanti e lavorare per switchare, no, e fare sì che invece i pensieri predominanti, quelli che ci vengono in automatico, siano dei pensieri invece per noi costruttivi e che ci dobbiamo sforzare a fare dei pensieri negativi, ok? Come invece adesso ci sforziamo a fare ovviamente dei pensieri positivi che siano, come dire, dei pensieri allineati a quello che noi vogliamo inizialmente. Ed è proprio strettamente connesso con questi pensieri che emerge all'interno del processo di manifestazione questo concetto di saturare la mente. Con saturare andiamo a intendere un qualcosa che va riempito, che va colmato, no, di nozioni, di concetti e in questa direzione dobbiamo proprio riempire la nostra mente fino a saturarla con quelle che sono delle affermazioni, dei pensieri, delle conversazioni interiori che si muovano in, che si muovano su livelli completamente differenti da quelli precedenti, per andare poi a lavorare anche nelle nostre credenze. Chiaramente quando noi riusciamo a saturare la nostra mente con nuovi pensieri che sono connessi a nuove emozioni e che sono connessi a nuove credenze, ovviamente cosa stiamo facendo? stiamo incorporando la versione di noi che è e che ha ciò che già desidera. Ho fatto un video specifico sull'incorporare, ti lascio il link qui sopra, ma ho fatto un altro video che si connette molto a questo, che è legato al fatto che a un certo punto tu diventi la tua manifestazione. Ed è per questo che si parla anche di incorporare, proprio perché ad un certo punto la nostra pratica non è più come il fare delle tecniche, no? L'essere costante e rigoroso in determinate pratiche, tecniche, visualizzazioni e così via. Perché? Perché tu stai già vivendo la tua realtà desiderata ed è per questo che tu sei la tua manifestazione. E quando dico che tu stai già vivendo la tua realtà desiderata significa che hai saturato la tua mente fino a incorporare la versione di te che ha già ciò che desidera e quindi non ha più bisogno di, come dire, andare a visualizzare se stessa o quella determinata versione di sé perché si sente quella versione di sé. Ed è questo quello a cui si arriva e che sicuramente potrai arrivare benissimo anche tu. Però se sei un pochino all'inizio mi rendo conto che alle volte questo concetto di saturare la mente possa essere un po' complesso, no? E infatti qui ti voglio dare tre suggerimenti, sono tre passaggi secondo me più importanti per iniziare a comprendere che cosa significa questo saturare la nostra mente. Cioè ti verrà da chiederti va bene come posso però farlo, no? Come posso saturare la mia mente fino a incorporare quella versione di me. Allora questi tre passaggi sono molto semplici. Il primo è quello di andare a individuare dei pensieri e delle emozioni che ti fanno stare bene e che sono allineate a ciò che tu desideri. Quindi se è il tuo desiderio, quello che vuoi manifestare è una nuova relazione, quindi che l'amore entri nella tua vita, tu cominci a ragionare, a fare dei pensieri che sono in quella direzione. Quindi io sono una persona amata, io sono una persona amabile. il partner dei miei sogni è già nella strada verso di me. Oppure se è una persona specifica, quella persona specifica mi desidera. Io sono una persona fantastica, mi rispetto e mi stimo e so che la mia persona specifica mi rispetta e mi stima allo stesso modo. Ok, tutta una serie di cose che ci portano in una dimensione che è quella che noi vogliamo. Possono essere appunto frasi che ci vogliamo sentire, che vorremmo farci sentir dire. Puoi visualizzare un'immagine, le tecniche, gli strumenti possono essere tanti. Infatti ho dei videocorsi che vi accompagnano proprio passo passo in questa direzione, ma anche qui nel mio canale trovi moltissimi video, quindi ti invito a scorrerli per trovare effettivamente tutta una serie di dritte e di altri strumenti e tecniche appunto che vi suggerisco. Comunque tornando a noi, individua quindi quelli che sono i pensieri e le emozioni connesse, associate, che ti fanno stare bene. Il secondo passaggio contatta quel tipo di pensieri e di emozioni che tu desideri e sperimentale. Che cosa significa? Significa attraverso per esempio una visualizzazione, quindi attraverso la tua immaginazione, chiudi gli occhi e immagini la scena che vuoi, la falla sempre in soggettiva, questo è importante, non vedere te da fuori, ma vivila come se tu la stessi vivendo con i tuoi occhi e stai lì, stai lì, vivila, vivila anche attraverso l'immedesimazione, l'immedesimazione molto importante in queste cose, soprattutto all'inizio. Comunque rimane il fatto che ci sono anche qui tantissime tecniche e lo puoi fare in tantissimi modi. Io qua adesso ti ho parlato della visualizzazione, può essere la conversazione interiore, può essere attraverso lo scripting, può essere attraverso le affermazioni, può essere veramente. Ci sono molti molti modi, ma ripeto, è importante che tu trovi il tuo, puoi provarli tutti, fai, come dire, delle prove e ognuno si trova meglio con una cosa piuttosto che con un'altra. Io personalmente, per esempio, mi trovo molto bene con la conversazione interiore e con le visualizzazioni, ma non è così per tutti. Ma per saturare la tua mente è importante che contatti, che scegli di ricontattare quelle emozioni e di sperimentarle in quel momento, senza avere la necessità di vederle o di sperimentarle nella realtà 3D. È importante che lo sperimenti nella tua realtà interna, prima di poterlo vedere nella realtà esterna. Ricordatelo sempre questo, la nostra realtà esterna è il riflesso della nostra realtà interna. Quindi, ripeto, mettiti nell'ottica di voler contattare e sperimentare quelle emozioni, quei pensieri. Terzo passaggio, la ripetizione. Non smetterò mai di dirlo che la ripetizione fa la differenza su tutto, se vogliamo imparare, se vogliamo migliorare determinate pratiche, tecniche e così via. Nel caso del processo di manifestazione, inizialmente, la ripetizione è fondamentale. Se tu fai, ti approccia al processo e provi a fare qualcosina, leggi, guardi i video di qua e di là, come manifestare in meno di tre giorni, provi un pochino però e dopo molli lì perché non vedi i risultati subito, perché ci credo. La manifestazione può essere estremamente veloce, estremamente veloce, ma lo è quando tu sei una persona esperta, quando hai praticato, quando sai che cosa significa manifestare, quando sai che cosa significa essere tu la manifestazione, essere tu la tua manifestazione e all'inizio non è una cosa così immediata. Quindi è necessario, a parte la costanza, ma la ripetizione, la ripetizione delle frasi, la ripetizione delle affermazioni, la ripetizione delle visualizzazioni, la ripetizione continua dell'andare a contattare quelle emozioni, quelle esperienze, quella versione di noi che ha già ciò che desidera adesso. È estremamente, estremamente importante. Quindi individua pensieri ed emozioni che ti fanno stare bene, scegli e fallo, di contattarli e di sperimentare queste emozioni, questi pensieri nella tua realtà interna e poi ripeti. Ti assicuro, ti assicuro che facendo i primi due passaggi e poi continuando con la ripetizione, assolutamente le cose si trasformano, ma la tua manifestazione diventa molto più veloce, puoi vedere grandi risultati veramente in quello che relativamente può essere molto poco tempo, ma lo è nella misura in cui tu sei costante e ripeti e ripeti e ripeti fino a saturare la tua mente. Ti ringrazio infinitamente per essere stata o stato qui con me, come sempre un grandissimo piacere e ci vediamo nel prossimo video.